I residenti di Via De Peligni a Colonia Spiaggia Frazione di Roseto chiedono una risoluzione all'annoso problema che da oltre 20 anni attanaglia chi abita in quella via a due passi dal mare. Una strada o forse meglio definirla una mulattiera visto la grande presenza di buche e l'asfalto mai pervenuto. Circa 40 famiglie da tempo chiedono al comune di acquisire la strada tramite un esproprio che sarebbero disposti anche a pagare per poi asfaltarla e mettere alcuni pari della pubblica illuminazione. Questa credo sia una delle poche strade che ancora non sono asfaltate qui a Colonia Spiaggia ed è un problema che è annoso ormai da moltissimi anni. Nel 2014 l'amministrazione comunale tentò con un atto formale a risolvere il problema con i privati. Si giunse ad un accordo di cessione delle aree ma la cosa poi non ne ha dato buon fine inspiegabilmente. Tenete conto che d'inverno questa strada si trasforma piena di buche quindi si trasforma in un pantano ed è molto pericolosa tenendo conto anche che non c'è impianto di illuminazione. Ora siamo arrivati al punto che vorremmo risolvere assolutamente il problema. Il comune ci dice che ci sono problemi legati ai costi di frazionamento delle aree e noi siamo dispostissimi a farcene carico se questo è il problema. Ovviamente chiediamo al comune un impegno formale che all'atto di cessione di queste aree poi si proceda con l'asfalto e con l'impianto di illuminazione per rendere questa strada fruibile. Tenete conto che siamo in una zona più bella del comune di Roseto degli Abruzzi perché siamo alle porte del Borsacchio e come sappiamo tutti il Borsacchio ormai è diventata una perla dell'Italia centrale, dell'Adriatico. Per cui è importante che qualunque amministrazione si avvicini al problema faccia di tutto per risolverlo e rendere questa zona, che è una delle più belle veramente della costa deramana, al pari livello almeno della sorella Roseto. E quindi veramente chiediamo un impegno a tutti per risolvere questo annoso problema.